Buongiorno e bentrovati con l'informazione di TG Sud. Eccezionale schiusa a Trapani, a Trapani lungo le spiagge del lungomare Dante Alighieri, la deposizione delle uova di una caretta caretta ha portato nelle ore scorse alla nascita di oltre 70 tartarughe. Questa è la nostra notizia del giorno. Eccezionale schiusa la scorsa notte a lungomare di Trapani. Sono 74 infatti le tartarughe che hanno preso la via del mare durante le prime ore del mattino. Qualche giorno fa, in previsione della schiusa, era stata predisposta la pista al fine di evitare le luci dirette dell'impianto di illuminazione stradale e per assicurare un corridoio protetto alle piccole tartarughe. In questi giorni si sono alternati i volontari del Rotaract, dell'Interact di Trapani e del WWF per vigilare sul sito e per dare informazioni alle centinaia di trapanesi che, incuriositi per il trambusto, si sono avvicinati a chiedere informazioni e a dare sostegno. Questo ci ricorda che il miracolo della vita è sempre sotto gli occhi di noi tutti. Intorno alla mezzanotte è venuta alla luce la prima schiusa che contava più di 50 individui per terminare alle 5.15 del mattino seguente. Il sito è ancora monitorato dai volontari che hanno presidiato notte e giorno fino a questa mattina alle 4.20, poiché un nido può essere attivo ancora per qualche altro giorno e altre tartarughe potrebbero prendere la strada del mare, non senza poche difficoltà visto l'inquinamento luminoso e la presenza di gabbiani. A monitorare il nido e a seguire la schiusa delle uova, il dottore in scienze naturali Francesco Ciulla, che ha tenuto a ringraziare Salvatore Placenza, Salvatore Stanislao e Valentina Coppola, che per tre giorni di fila hanno sorvegliato il nido e aiutato le tartarughe a raggiungere il mare. Si tratta della deposizione di uova fatta da una tartaruga caretta caretta lo scorso luglio lungo il litorale di Trapani. Sul sito si era recato lo stesso Francesco Ciulla, che oltre ad assistere all'evento aveva provveduto a delimitare l'area interessata. Alla deposizione delle uova avevano assistito molte persone che si erano tenute a distanza per lasciare tranquilla la tartaruga. E su queste meravigliose immagini ci fermiamo per qualche minuto, tra poco tutte le altre notizie e i titoli. A tra poco. Centri scommesse al setaccio. L'operazione di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane è culminata in 119 denunce. Un mistero lungo vent'anni. Il primo settembre del 2004 Denise Pipitone spariva a Mazzara del Ballo. La madre, io non mollo. La porta si dimetta è la richiesta dei consiglieri trapanesi dei Fratelli d'Italia sotto accusa all'assessore con delega ai servizi cimiteriali. Erice si anima di vino e musica iniziata. La quattordicesima tappa di Borgo Divino in Turro 2024, evento che si svolge tra la piazza della Loggia, piazza San Domenico e piazza San Giuliano. Parola al campo. Si è conclusa la lunga sessione estiva di calcio e mercato. Il Trapani chiude con due acquisti e altrettante cessioni. Nostos è nella pagina dell'approfondimento. Di oggi ci sposteremo a Pantelleria per parlare dell'inaugurazione della mostra di Michele Cossiro. Ancora ben trovati in studio con noi. Partiamo con la cronaca. Controlli della Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane nei centri scommesse. Il settore dei giochi e delle scommesse è stato passato al setaccio a livello nazionale dalla Guardia di Finanza e dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Due le linee d'azione adottate. La prima ha interessato il settore delle scommesse svolgendosi nel corso delle preliminari fasi aggeroni degli europei di calcio. La seconda invece è stata prevalentemente diretta al contrasto delle condotte illecite concernenti gli apparecchi convinciti in denaro. Le attività ispettive sono state rivolte anche al controllo sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio da parte dei distributori e degli esercenti di gioco. Una particolare attenzione è stata riservata alla tutela dalle fasce più deboli privilegiando i controlli nei luoghi e negli orari a maggior rischio di gioco minorile. Procedendo ad elevare sanzioni per l'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia, riscontrate 462 violazioni amministrative penali con la contestazione di sanzioni per circa 4 milioni e 300 mila euro. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro 172 apparecchi manomessi e non collegati alla rete telematica, in talunni casi all'interno di punti di gioco completamente abusivi. Scoperti inoltre 17 centri clandestini di raccolta delle scommesse denunciati 119 soggetti all'autorità giudiziaria. I militari delle Fiamme Gialle e i funzionari dell'agenzia stanno ora sviluppando le risultanze dei controlli per quantificare la base imponibile sottratta a tassazione sia ai fini delle imposte dirette che della normativa di settore. Domani ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone. La mamma dice io non mollo. Un mistero lungo vent'anni. Primo settembre 2004. Denise Pipitone scompare a Mazzara del Vallo. Aveva 4 anni. La piccola stava giocando accanto alla porta di casa guardata dalla nonna. Passa un cugino e lei lo segue. Girato l'angolo di via Domenico Labruna sparisce nel nulla. Di lei non si saprà più nulla. Scattano le indagini incentrate sulla pista familiare. Arriva la svolta. Per gli inquiretti Denise sarebbe stata rapita per vendetta e gelosia dalla sorellastra Jessica Pulizzi con la complicità della madre Anna Corona e dell'ex fidanzato Gaspare Galeb. Vengono processati e assolti. Sotto accusa allora finiscono le indagini stesse dense di errori. Gli indagati sapevano di essere intercettati. Viene perquisita la casa sbagliata di Anna Corona e tanto altro. Nel frattempo si susseguono segnalazioni e avvistamenti. Tutti però senza esito. Sono passati vent'anni ed è dura dice la mamma Piera Maggio perché Denise va cercata e non archiviata come una pratica completata. Denise non è scomparsa ma è stata sequestrata. Domani è l'anniversario della scomparsa. Sono vent'anni di dolore e di lotta continua prosegue Piera Maggio per fare in modo che Denise non venga dimenticata che ci siano verità e giustizia a questo mondo. Io non ho pace e non ne avrò mai. Siamo qui e non molliamo con la speranza che un giorno Denise riappaia. Domani Denise avrebbe compiuto 24 anni. Il filo con lei racconta si è spezzato a 4 anni. Nella mente ho il viso di una bimba a paffutella stento a pensare l'adulta ma poi mi dico che sì se la immagino grande vuol dire che è viva. Piera Maggio continua nella sua battaglia. Le nostre idee le abbiamo ben chiare e da sempre. Quattro mesi sono pochi per chiudere un'indagine di questa portata. Bisognava approfondire le intercettazioni ma non sono io a dover dire a un magistrato cosa fare. E torniamo a parlare della tragedia di Porticello perché c'è una nuova testimone nel naufragio del veliero Bayesian. Si tratta della titolare di un cantiere nautico proprio a Porticello e ha dichiarato quel veliero non doveva stare lì quella notte. Ha detto la 73 nei particolari nel servizio. Quel veliero non doveva stare lì quella notte. Questo è un tratto di mare particolare. Nessuno ci ancora. A parlare questa signora, Rosalia Orlando, 73 anni, titolare di un cantiere nautico a Porticello, lei era lì la notte della tragedia. Il suo cantiere si affaccia proprio sul tratto di mare che ha inghiottito il veliero inglese. Ma è un tratto di mare abbastanza particolare. No, non è un tratto di mare, solo qua si mettono sempre, ora al 10 e basta. Questa cosa mi sa accadere, insomma, come c'erano? Ma c'erano già i lampi allora. Cioè, quindi già la tempesta già era? Sicuramente, certo, gli avranno chiesto, scusate se hanno chiesto alla capitale di rientrare. Un po' davano traspare dopo, è troppo grosso. Adesso la signora è una testimone del naufragio e il video ripreso dalle sue telecamere è stato prelevato dalla guardia costiera. Ma a quanto pare nel video si è visto che si sono aperte le vele, con un maltempo, e la barca è caduta. Questo c'è, quello che sappiamo è questo nel video. Poi non so come sia successo altro, non so. Questo è un tratto di mare, insomma, tra virgolette insidioso. La signora diceva poc'anzi che spesso qui non si ancora. Qui spesso non si ancora perché qui il mare è veramente insidioso. Cioè, alcune volte le barche si vanno a Coppa, Zafferano e a Demetri, oppure dietro al castello di Solant. Ma qui mai. Insomma, il Bison si è trovato al momento sbagliato, nel punto sbagliato. A Porticello, intanto, la vita quotidiana sembra essere tornata alla normalità. Ancora siamo increduli, ci dicono alcuni pescatori. L'equipaggio, compreso il comandante Cuthfield, da ieri non sono più in Italia. E cambiamo argomento adesso. Stanziati anche quest'anno 6 milioni e 700 mila euro per rafforzare il piano dell'offerta formativa degli 11 istituti tecnici formativi in Sicilia. Stanziati anche quest'anno 6,7 milioni di euro per rafforzare il piano dell'offerta formativa degli 11 istituti tecnici superiori in Sicilia per il biennio 2024-2026. La Regione ha pubblicato sul sito del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio l'avviso rivolto agli istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica per realizzare percorsi formativi biennali per il conseguimento del diploma di tecnico superiore in attuazione del piano territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore 2023-2025 approvato dalla Giunta Schifani, coerente con la strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente. Puntiamo ancora sul sistema ITS, afferma l'assessore regionale all'istruzione e all'azione professionale Mimmo Turano perché siamo consapevoli delle enorme necessità di capacità e competenze tecniche avanzate e innovative non solo nei settori squisitamente tecnici come energia, mobilità, chimica, sistema casa, meccatronica, tecnologie dell'informazione ma anche in altri settori come agroalimentare, moda, servizi alle imprese, arte, cultura e turismo abbiamo bisogno di figure professionali in grado di gestire le tecnologie innovative nei vari settori altrimenti non sarà possibile avviare un vero processo di innovazione sostenibile delle nostre comunità l'avviso infatti intende ampliare la formazione professionalizzante con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali così da contribuire allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta a beneficio di una maggiore occupabilità e della nascita di start-up innovative inoltre punta a rafforzare l'offerta di istruzione terziaria non universitaria favorendo i processi di trasferimento tecnologico e di transizione verde e digitale Ci fermiamo pochi minuti, tra poco tutto l'altro blocco informativo La porta si dimetta e la richiesta dei consiglieri trapanesi di Fratelli d'Italia sotto accusa l'assessore con delega ai servizi cimiteriali e i ricessi anima di vino e musica iniziata la quattordicesima tappa di Borgo Divino in tour 2024 e poi per lo sport parola al campo si è conclusa la lunga sessione estiva di calciomercato il trapani chiude con due acquisti e altre tanti cessioni non si placano gli animi dopo il consiglio comunale di due giorni fa adesso Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessore La Porta Continuano a far discutere le condizioni in cui riversa il cimitero di Trapani l'argomento è già stato al centro di un dibattito nella prima seduta dopo la pausa estiva del consiglio comunale a segnalare i vari disservizi del Camposanto era stato il consigliere Gian Formaggio tra i disagi evidenziati quello della pavimentazione saltata di alberi non potati da anni di Corrimano ormai estremamente arrugginiti e di un cimitero che presenta evidenti problemi strutturali al centro del dibattito anche la mancanza di acqua nei giorni scorsi in diverse parti del cimitero l'assessore La Porta ha risposto a tutte le accuse dichiarando che il cimitero non ha mai subito mancanza d'acqua se non a metà agosto a causa di un guasto del motore dovuto principalmente a chi lasciava i rubinetti aperti portando il motore a surriscaldarsi giustificazioni queste non accettate dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia che adesso chiede le dimissioni dell'assessore La Porta l'assessore La Porta mente sapendo di mentire ha dato le risposte abbastanza vaghe e poco chiare alle mie stanze addirittura durante la fase di replica ho ricevuto un messaggio in diretta da un cittadino che lamentava dello stato di degrado in cui versa il verde pubblico all'interno del cimitero e tutto ciò è inaccettabile come è inaccettabile sentire dire a un assessore che i problemi dell'acqua sono legati a un guasto, ad un motore come è inaccettabile sentire dire che i bagni pubblici restano chiusi questa città merita molto di più questo assessore rappresenta la mediocrità di questa amministrazione noi come Fratelli d'Italia chiediamo le dimissioni dell'assessore La Porta anche perché pensiamo che visto che ha altri impegni istituzionali che lo portano spesso ad andare a Palermo magari non ha il tempo necessario per potersi dedicare alle criticità del cimitero di Trapani Ci spostiamo a Cussonaci perché terminati i festeggiamenti in onore della Patrona adesso il Comune fa un bilancio su quella che ormai è stata la stagione estiva e sui prossimi eventi in programma I festeggiamenti in onore della Madonna di Cussonaci sono terminati nei giorni scorsi portando con sé ottimi risultati per tutta la stagione estiva tra iniziative e celebrazioni varie sono state tante le presenze all'interno del territorio di Cussonaci in particolare nel mese di agosto oggettivamente c'è stata una bella presenza di turisti voluta anche a tutta una serie di eventi di tanti generi che si sono svolte sul territorio non ultimo i festeggiamenti in onore della nostra Patrona che veramente hanno riempito vuoi per lo sbarco la nostra Cornina e poi soprattutto il centro storico per ovvi motivi perché tutto ruota attorno al nostro santuario con iniziative collaterali di carattere religioso ma anche culturale quindi sono state presenze importanti ma devo dire tutta l'estate insomma è stata accompagnata da buone presenze nel corso dei vari mesi e con le varie iniziative che abbiamo realizzato svolte in tutte le piazze del territorio con tutte le frazioni protagoniste e in particolare ovviamente la realtà del centro storico di Cornino per ovvi motivi e vuoi perché il mese di agosto sostanzialmente è balneare quindi Cornino raccoglieva iniziare sempre dallo scuola parte ma anche tante altre realtà dedicate ai più giovani e poi il centro storico con anche iniziative di carattere musicale e culturale e quindi complessivamente insomma mi ritengo soddisfatto di quello che abbiamo realizzato Adesso il comune pensa al futuro con tanti eventi che si prolungheranno anche dopo l'estate Abbiamo un bel progetto per tutto il mese di ottobre che peraltro abbiamo partecipato ad un bando della regione l'abbiamo vinto si chiama Custanici Memorie e Futuro ragioneremo appunto in sinergia tra i passaggi intergenerazionali tra gli anziani, i giovani coinvolgendo la scuola coinvolgendo il gruppo Folk Calabucuto coinvolgendo la realtà della biblioteca del resto Custanici recentemente è entrato anche nel circuito delle città dell'olio quindi ci saranno dei passaggi anche sotto questo punto di vista quindi dal punto di vista dell'agricoltura dell'aspetto primario quindi un ragionamento che torna e ruota attorno alla nostra identità quella storica per proiettarci ecco verso l'identità futura avere consapevolezza da dove veniamo certamente a nostro avviso ci può proiettare verso la consapevolezza di scrivere ecco un futuro che possa in qualche maniera dare condizioni di sviluppo sociale ed economico questo è lo sforzo che vogliamo fare lo faremo attraverso questo questo bando appunto che abbiamo vinto e credo che sarà un mese di ottobre oltretutto sarebbe la prima volta che un mese di ottobre così corposo di iniziative per tutto il mese al pari di quello che è venuto un po' a maggio quando abbiamo iniziato con i tre weekend dei Borghi Tesori Feste quindi come vedete stiamo allungando la stagione da maggio ad ottobre cosa che prima in passato non era mai avvenuta e rimaniamo nell'agroericino siamo ad Erice al Via la quattordicesima tappa di Borgo Divino in Tour 2024 è ufficialmente iniziata la quattordicesima tappa di Borgo Divino in Tour 2024 a Erice la rassegna enogastronomica con il patrocinio del comune di Erice in collaborazione con il consorzio Ecce Italia l'iniziativa è promossa dall'associazione Borghi Più Belli d'Italia ed è patrocinata dall'associazione nazionale di Città del Vino questo weekend il centro storico di Erice si trasforma in un palcoscenico enogastronomico e musicale offrendo ai visitatori un'esperienza che fonde la degustazione di vini pregiati con l'intrattenimento l'evento che si svolge tra Piazza della Loggia Piazza San Domenico e Piazza San Giuliano propone un percorso di degustazione che tocca i luoghi di maggiore interesse turistico del Borgo i partecipanti possono assaporare una vasta selezione di vini provenienti da circa 30 cantine di diverse regioni italiane tra cui Sicilia Campania Lombardia Veneto Puglia Liguria Lazio Toscana e Abruzzo Siamo entusiasti di ospitare Borgo di Vino ha detto la sindaca toscano è un evento che non solo celebra le eccellenze enologiche italiane ma si allinea perfettamente con la nostra visione di sviluppo territoriale e di valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico per arricchire l'esperienza sono stati allestiti 20 pannelli informativi sul mondo del vino offrendo ai visitatori un'opportunità unica di approfondire le loro conoscenze enologiche l'intrattenimento musicale include performance di artisti locali in piazza San Giuliano e piazza della loggia creando l'atmosfera perfetta per godere appieno dell'esperienza e per gli appuntamenti sulla nostra emittente oggi nel pomeriggio a partire dalle 18.20 in attesa del fischio d'inizio alle 18.30 trasmetteremo l'amichevole Trapani Shark Galatasaray in diretta in esclusiva sul canale 87 del digitale terrestre e poi verrà replicata questa sera alle 21 domani invece alle 9 alle 15 e alle 23 quindi proprio la seconda amichevole della preseason turnamente proprio della Trapani Shark invece questa sera alle 19.40 e alle 22.40 il nostro magazine ancora pochi secondi di pausa per noi tra poco torniamo con lo sport e a mezzanotte si è chiusa ufficialmente la lunga sessione estiva del calciomercato il Trapani ha chiuso con due colpi in entrata il terzino Medeo Benedetti proveniente dal Benevento e il classe 2003 il portiere Andrea Daniello invece si chiude anche con altrettante cessioni perché al campo basso con la formula del prestito è andato il difensore Francesco Benassai anche al Sorrento invece il portiere Alessio Pozzi intanto è vigilia di campionato perché domani il Trapani alle 20.45 sfiderà in casa nella prima interna di campionato proprio dei Granata il Picerno che al debutto ha rifilato quattro retti all'Avellino e queste adesso andiamo ad ascoltare le parole di mister Alfio Torrisi sicuramente ieri il presidente non si è fatto trovare impreparato era sul pezzo già dal pomeriggio dalla mattina si cercava di completare e di mettere i giusti aggiustamenti a quello che aveva bisogno la squadra per cercare di essere al top non che non lo era già però come ha detto lui un attimo fa quando si percepisce che va sistemato qualcosa bisogna farla subito qualora ce ne fosse la possibilità non tutti la possono fare noi abbiamo avuto la fortuna e la possibilità grazie al presidente di farla e quindi ne sono fiero e orgoglioso torniamo a casa l'esordio in campionato l'abbiamo già fatto in coppa incontriamo una squadra ostica a difendere così fastidiosa che è molto intensa una squadra che gioca con molta spensieratezza è forte nelle transizioni fortissima è una squadra che prova anche a costruire senza timore dal basso per andarsi a creare molta verticalità e profondità è una squadra che ha idee è una squadra che ha dimostrato negli ultimi due anni il progetto che è ben delineato con due sesti posti in serie C è playoff quindi una squadra che ha dimostrato un ottimo precampionato ha fatto bene in coppa è partita bene con l'Avellino e quindi sappiamo che è una partita difficile però noi dal canto nostro siamo a casa nostra e come è inciso il fattore campo domenica lunedì per l'avversario deve oggi incidere per noi domani deve incidere per noi perché il provinciale pieno che spinge è un grande valore aggiunto per noi ci affidiamo alla nostra gente alla nostra struttura mentale di squadra e cercheremo attraverso la prestazione di fare un risultato positivo e nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del provinciale è intervenuto anche il presidente Valerio Antoni che ha offerto un suo quadro di quella che è stata questa sessione di calciomercato ascoltiamolo la mia è una presenza dovuta visto che è finito il calciomercato abbiamo finalmente completato la rosa e domani c'è la prima in casa sentitissima perché è la prima di una stagione secondo me fondamentale per il mio progetto perché credo che partire con una vittoria sia oggi dopo il pareggio di Foggia quanto mai importante fondamentale la squadra lo sa benissimo motivo per cui non ho lasciato nulla al caso e ho cercato fino all'ultimo secondo di costruire la migliore squadra possibile nel momento in cui mi sono reso conto anche insieme all'allenatore che c'erano dei correttivi da fare e abbiamo ammesso di avere frettolosamente coperto alcuni ruoli con giocatori che non erano idonei a vincere un campionato e siamo intervenuti in corso d'opera per migliorare e far sì che oggi a mio modo di vedere abbiamo una squadra veramente veramente forte tenete presente che negli ultimi dieci giorni sono arrivati cinque giocatori cinque giocatori importantissimi abbiamo preso Valietti abbiamo preso Silvestri abbiamo preso Benedetti abbiamo preso Spini abbiamo preso Lescano in una squadra che già aveva un telaio da Ferrari adesso siamo diventati una pulosangue in tutti i sensi e credo che la squadra abbia tutto per fare un grande campionato che io mi aspetto dalla difesa all'attacco sono tutti giocatori importanti di categoria che hanno già vinto questo campionato e quindi credo che veramente adesso serve un'onore di intenti dalla città alla tifoseria alla squadra per arrivare al risultato che tutti vogliamo e cioè di tornare in Serie B Chiudiamo la pagina sportiva ricordandovi ancora una volta l'appuntamento di questo pomeriggio a partire dalle 18 e 20 saremo in diretta direttamente da Bormio per la Michievole tra Trapani Shark e Galatasarai che sarà trasmessa in diretta in esclusiva sul canale 87 del Digitale Terrestre come suggeriva poco fa la grafica oggi e anche la giornata della Supercoppa di Handball e quindi le arpie della Enbo Leric giocheranno in casa del Brixie su Tirolo che proprio lo scorso giugno hanno vinto qui il campionato al Palacardella quindi in bocca al lupo alle arpie di coach Ignachi noi ci fermiamo ancora un momento tra poco l'approfondimento e per l'approfondimento di oggi a Pantellieri è stata inaugurata Nostos la mostra dell'artista Michele Cosiro Valenza ha preso il via negli spazi della Mediateca l'artesissima mostra di Michele Cosiro Valenza una mostra unica perché fatta di opere donate dall'artista all'isola di Pantelleria le prime 33 alle quali si andranno a sommare altre 67 nei prossimi due anni la donazione è stata fatta ai suoi abitanti ai concittadini dell'artista che sono ora tutti gli effetti proprietari delle opere in mostra un regalo che il maestro ha voluto fare all'isola in cui è nato l'esposizione curata da Bruno Corà si chiama Nostos Nostos vuol dire ritorno nel saggio diciamo introduttivo al catalogo che io ho preparato per questa mostra ho messo all'inizio una poesia di Cavafis il quale parla di Itaga perché il ritorno è sempre stato identificato da parte diciamo della cultura poetica come il momento importante in cui uno ritorna dove ci sono i suoi cari dove ci sono le sue memorie e quello di Cossiro in questo caso è un ritorno alla sua isola natale dunque è un Nostos anche del Cossiro è un ritorno un ritorno qui dove luciano le sue radici 33 opere molto diverse tra loro di periodi e cicli differenti in ognuna delle quali Cossiro ha messo a fuoco una modalità linguistica alcune opere nascono dal punto di vista plastico come sculture tridimensionali e poi continuano il loro sviluppo nella bidimensionalità nel disegno in altri momenti l'artista investe il pavimento con quella che lui chiama Boa Italia un oggetto con intorno cerchi di sale una modalità linguistica che investe l'intero ambiente in cui lo spazio diventa esso stesso opera d'arte un percorso fatto di opere scelte in base a uno sviluppo temporale delle punte particolari delle punte di chiamante particolari che segnano un l'avventura artistica cioè l'avvenimento l'accadimento il percorso esistenziale mio e anche del mio lavoro mancano ancora altre opere che io cercherò di portare nelle mosse successive avere fine opere di Postino è per noi motivo di grande orgoglio si tratta di un artista di fama internazionale le sue opere si trovano un po' ovunque e di conseguenza era anche giusto per certi versi che tornasse a casa sua che tornasse a Pantelleria una mostra che sarà aperta tutto l'anno e che vedrà anche il coinvolgimento durante il periodo invernale delle scuole dell'isola un modo per infondere cultura e bellezza alle nuove generazioni e per donare quell'arricchimento che solo l'arte riesce a trasmettere